Stefano Lucetto di Fiera Milano, quali sono i vostri prossimi passi nell'ambito dell'efficienza energetica? Fiera Milano ha intenzione di lavorare molto nei prossimi anni sull'efficienza energetica e soprattutto in tre diversi filoni. Il primo filone è quello della realizzazione della messa on go di un impianto fotovoltaico da 8,2 megawatt di picco già realizzato e in fase di commissioning e di autorizzazione da parte di Terna. Il secondo filone è quello legato all'efficientamento delle centrali frigorifere all'interno del quartiere di Rho che oggi ha una potenza installata di circa 60 megawatt con gas a effetto serra e vorremmo passare a centrali frigorifere con i nuovi gas molto più ecologici. Il terzo filone è proprio legato alla riduzione della CO2 che per Fiera Milano dovrà essere abbattuta del 50% entro il 2025 lavorando sullo studio dell'LCA di manifestazione che sono poi il nostro prodotto finale e quindi andare a capire come cercare di abbattere tutti i consumi legati sia ai viaggi sia alla realizzazione dell'evento.